It's easy to laugh at my desire, laugh at my desire, it's easy to catch my heart on fire, 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 fire. Ciao da Massimo, sono con Melody Castellari, ciao! Fantastica, finalmente ti conosco! Finalmente ci conosciamo, veramente! Sono emozionato, sono emozionato! Ma è un po' anch'io, ti dico la verità? Sì, veramente? Sì, 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 sapevo che sareste venuti, però in realtà è stata un po' una carambata comunque, quindi sono molto felice. Va bene, dai, io ho la pelle d'oca, come si dice noi in Toscana. Dicevamo, ha già posto, quindi ancora prima dell'ospettacolo. Sì, sì, io sono già contento così, sinceramente. Bene. Comunque dai, un bellissimo evento dedicato al Bet One, un pensiero per Albert. Beh, allora, lui era un personaggio incredibile. Io ho avuto la fortuna di lavorarci a lungo con Albert, proprio alla fine degli anni 90, inizio 2000, facendo da corista per diversi suoi dischi. E me lo ricordo proprio come una persona super, super positiva, molto simpatico, molto paccioso, si dice. Sì, sì, è vero. Una bella persona. Quindi sono molto felice di poter partecipare a questo evento questa sera per ricordarlo con gioia, come sicuramente merita di essere ricordato. E quindi, ragazzi, insomma, godetevi poi lo spettacolo. Credo proprio che vi divertirete. Sicuramente. Comunque, noi abbiamo fatto una bellissima chiacchierata che trovate nel canale YouTube iLobbyToroDisco. Perché qui veramente abbiamo delle più belle voci in assoluto. Grazie, troppo buono. Una voce, mettiamola così. Una delle voci della dance anni 90. Sì, sì, sì. Bene, bene, dai. Vi salutiamo, amici, e alla prossima. Alla prossima, andate a vedere, mi raccomando, su YouTube. Ciao, ciao, a presto. Ciao, ciao.